la divisa ufficiale della roma effettivamente chi è questo? vabbè capo il motore d'aldogenna d'abram no di nuovo lui è il buon owen sono mezzo della casa eh bel player eh chi è questo attaccante no runey no moish cover sbc questo qui questo è carino a me piace a me piace questo douglis c'è questo qui vambasse marcolino vambasse tedesco no ma come close ma no close ok che vanno persi ah questo è carino la ciocci però lo devi ottenere dopo 15 vittorie fai 15 win e ti becchino c'è da quest'icona può andare bene come può andare anche male capito oh no klybert brutto attenzione francese a ti va bene il king cantona cantona effettivamente però ci sta comunque ricar 95 costaci dai però il prezzo è abbastanza contenuto si può dire oh no il buon rush ecco questo qui da schippare ok non buono non buono allora da però mettere i motore motore forse bello del piero alex e forse adesso costa un po' di meno però eh miulla il buon miulla secondo me da next back to back miulla ah si back to back next gen metterei magari se riesci magari uno sniper pure grazie a tutti